Ciao ragazzi, benvenuti in questo primo video. Parleremo di Serie B perché oggi si gioca il primo playoff di questa stagione. Si affrontano allo stadio Druso di Bolzano su Tirol-Regina, che sono distanti geograficamente ma non tanto distanti in classifica. La vincente di questa partita giocherà contro il Bari in una delle due semifinali e poi domani ci sarà anche il secondo quarto di finale fra Cagliari e Venezia. E poi la vincente andrà ad affrontare il Parma, che appunto si è classificato al quarto posto. Ma andiamo ad analizzare proprio nello specifico queste prime due partite perché si affrontano appunto una squadra neopromossa che forse ad inizio stagione nessuno pensava potesse arrivare a questo risultato. Un su Tirol che alla sua prima partecipazione appunto in Serie B ha raccolto 58 punti conquistando una posizione di classifica sicuramente buona, un sesto posto che è valso appunto gli spareggi a discapito di altre formazioni che da questi playoff sono rimaste fuori. Come il Palermo, come il Pisa, il Modena, anche Como ed Ascoli, più di un pensiero sicuramente l'hanno fatto a questi playoff, così come la Ternana che poi è crollata nel finale di stagione. Il su Tirol è una squadra da seguire perché non ha un attacco brillantissimo ma ha una delle difese meno battute di questa Serie B e questo potrebbe essere anche un fattore. È una squadra che, come possiamo leggere da qualche dato, è cambiata proprio completamente sotto la gestione di Pierpaolo Bisoli e ha ottenuto, pensate, 30 risultati utili in 35 partite, cioè significa che da settembre ad oggi il su Tirol di Bisoli ha perso soltanto 5 partite. Aldruso poi, complessivamente, ha rimediato tre sole sconfitte e un altro fattore da non escludere è quello che Bisoli, due promozioni in seriale, ha già ottenute alla guida del Cesena. Ed è quindi una delle squadre che possiamo definire come potenziali sorprese non solo di questo campionato ma anche di questa Serie B. Però, ragazzi, attenzione alla Regina che, nonostante la penalizzazione, nonostante le difficoltà societarie, le difficoltà di classifica, tutto questo trambusto che ha appunto colpito la squadra di Pierpenzaghi, alla fine è riuscita effettivamente a classificarsi per i play-off e se li giocherà a testa alta. Regina che, per passare, deve vincere appunto contro il su Tirol, che ha a disposizione due risultati su tre, ma che proprio grazie a quel gol di Canotto al 94esimo contro l'Ascoli può, in un certo senso, sperare in un, non vi dico miracolo, però qualcosa di simile. Parliamo di una squadra che, ad inizio stagione, puntava addirittura la promozione diretta e le qualità e i mezzi per farcela a livello di Rosa sicuramente non gli sono mancate. Gli è mancata la continuità dei risultati, soprattutto nel 2023. Poi comunque si è ripresa nel corso di quest'anno ed ha raggiunto sicuramente un risultato meritato, un risultato che questa piazza voleva sicuramente già dall'inizio della stagione. Occhio perché anche Pippo Inzaghi, nel corso della sua carriera di allenatore, ha già ottenuto una promozione però diretta con il Benevento. Il Bari potrà essere proprio l'avversaria di una fra Sud Tirol e Regina, terzo posto in classifica, 65 punti, ha rincorso una promozione diretta per molto tempo, che però poi è stata conquistata da Frosinone e Genoa, che forse a livello di Rosa si sono dimostrate le due squadre più complete, le due squadre più forti per andare direttamente in Serie A. Il Bari che ha Walid Kedira, capocannoniere della Coppa Italia, il Bari l'ha rivendicato dopo la vittoria dell'Inter, comunque 5 reti nella Coppa Nazionale per un giocatore che in campionato ha poi realizzato soltanto 17 reti classificandosi al terzo posto nella classifica a marcatori dietro appunto la Padula. Poi Ampalo. Questo potrebbe essere un fattore come il fatto che il Bari secondo me ha la rosa più completa e più forte per raggiungere appunto la promozione diretta tramite questi spareggi. Un Bari che poi, oltre alla rosa, ha tanta voglia di arrivare nuovamente in Serie A, da dove manca da 12 anni praticamente. Cioè, da 12 anni appunto la formazione pugliese non partecipa al campionato di Serie A. Bari che ha vinto due volte la Serie B nel 42 e nel 2009 e che potrebbe, pensate, partecipare alla massima serie per la 31esima volta in assoluto di stagione. Guardando le squadre dei play-off, soltanto il Cagliari ha partecipato più volte al campionato di Serie A che forse ha, senza forse, ha sicuramente bisogno di piazze forti, piazze calde come quella di Bari. Un'altra piazza che manca in Serie A è appunto il Cagliari che domani affronterà il Venezia nella seconda semifinale. Bari, scusate, Cagliari, che ha ottenuto gli stessi punti del Parma che si è classificato al quarto posto, cioè 60, e che ha, secondo me, due fattori per poter ambire seriamente a questa vittoria dei play-off. Il primo è Gianluca Lapadula che ha vinto per la terza volta in carriera una classifica a marcatori, la seconda volta in Serie B dopo, appunto, la parentesi, dopo la grandissima stagione vissuta al Pescara che poi ha ottenuto la promozione in finale, grazie alla finale, la doppia finale vinta con il Trapani nella stagione 2015. In quel caso Lapadula fece 27 gol nel corso del campionato regolare e poi tre gol nella fase play-off, fra cui, appunto, quello nella finale di andata contro il Trapani. Lapadula, però, a classifica a marcatori, non l'ha vinta soltanto quest'anno con il Cagliari, 21 reti appunto per lui, ma l'ha vinta anche, pensate, nel campionato di seconda divisione del 2011 con il San Marino. Quindi un bomber del genere potrebbe essere sicuramente decisivo, così come un allenatore dell'esperienza di Claudio Ranieri, ragazzi. Un Claudio Ranieri che, per amore del Cagliari, è tornato in Serie B con l'obiettivo di risalire il prima possibile in Serie A. Sicuramente questo può essere un anno buono, un anno in cui Ranieri può scrivere ancora qualcosa di importante nella propria storia di grandissimo allenatore. Ranieri ha già ottenuto due promozioni, prima in Serie B e poi in Serie A con il Cagliari, e ha vinto anche un campionato di Serie B con la Fiorentina. Attenzione però, perché il Cagliari non ha battuto né all'andata né al ritorno sia il Venezia sia il Parma. Il Venezia è appunto la squadra che nel girone d'andata ha battuto il Cagliari per 3-1, scusate, per 4-1 nella settima giornata. Una stagione sicuramente clamorosa, quella del Venezia, che fino a qualche giornata fa era poco al di sopra della zona play-out, in cui è rimasto per tanto tempo e dopo una stagione comunque di Serie A un risultato come quello sarebbe stato sicuramente deludente. Poi comunque il Venezia ha ottenuto 5 vittorie da aprile a metà maggio e si è rilanciato in classifica, pur perdendo l'ultima partita giocata a Parma. Un fattore di questa grande cavalcata del Venezia è sicuramente poi Ampalo, che ha realizzato 12 gol nel 2023, 17 totali, scusate, 19 totali, fra cui il poker al Modena. Chiudiamo con il Parma che si è classificato al quarto posto in classifica con 60 punti come il Cagliari. Tra i fattori del Parma, oltre ad una rosa comunque molto attrezzata, una rosa comunque abbastanza completa, c'è Fabio Pecchia, perché Fabio Pecchia nel 2017 e nel 2022 è andato in Serie A direttamente, sia con il Verona sia con la Cremonese. Fabio Pecchia che poi l'anno scorso è ritornato in Serie B dopo l'esperienza alla Cremonese e che adesso questa Serie A la rivuole, la vuole comunque guadagnare, la vuole sicuramente giocare. E come dicevo, il Parma secondo me, sicuramente come il Bari, è una delle formazioni favorite. Forse vedo un po' più avanti il Bari sia per ragioni di classifica, sia per ragioni di rendimento, comunque di continuità nel corso della stagione, però attenzione anche alle sorprese, perché davvero sono un po' indecifrabili questi playoff che però vivremo già da stasera. Iscrivetevi al canale ragazzi, mettete like a questo video e nulla. Grazie per aver visto il primo video di questo mio canale dedicato interamente al calcio.